È ovvio che viviamo il tempo in cui la comunicazione la fa da padrone, peraltro in un tempo nel quale c'è un tema di validazione delle fonti e continuo ancora a sostenere come il ruolo dei giornalisti, delle testate che in qualche modo rappresentano e che si assumono delle responsabilità è un punto di riferimento ineliminabile, perché nel mondo della comunicazione non c'è la semplice propalazione di una notizia, ma la possibilità che la notizia provenga da una fonte in qualche modo verificabile, verificata e quindi è una filiera che si compone ovviamente della nostra attività, perché poi noi abbiamo interesse a comunicare, abbiamo interesse a far conoscere, a far sapere, ma a maggior ragione abbiamo interesse che questo tipo di comunicazione raggiunga gli utenti in maniera non distorta e quindi il tema della certificazione e della validazione delle fonti credo che sia una cosa sempre più attuale. Bene, grazie.